Siamo a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati qui su Elite 3 Technology in un nuovissimo video. Come avete già visto dall'introduzione ma soprattutto dal video precedente, oggi andremo a vedere il montaggio di tutta la componentistica che fa parte del mio PC dentro il Thermaltake View 71 TGRGB che abbiamo già visto in un precedente video. Non farò passo passo una configurazione quindi non vi spiegherò come si montrà un PC ma farò un timelapse di tutto il video. Quindi vedrete diciamo tutta la parte di montaggio però in modo estremamente velocizzato. Vi invito ad iscrivervi a questo canale, a cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati anche sulle prossime uscite che ci saranno su questo canale. Ma soprattutto di raggiungere i 50 mi piace per questo video ragazzi. Diciamo che l'aggiornamento di tutta la componentistica che faceva parte del mio PC quindi andrò a effettuare alcuni aggiornamenti come l'aggiunta di un SSD NVMe e alcune ventole e quant'altro. Quindi tutto mettendolo all'interno di questo fantastico Thermaltake che attualmente è montato qua e state vedendo solamente magari una piccolissima parte quindi è meglio che non vediate altro. Ma già avete visto sicuramente qualcosa dall'introduzione. Noi ci vediamo alla fine del video ragazzi buona visione. Noi ci vediamo alla fine del video. Noi ci vediamo al 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 video. manca solamente questo spezzone semplicemente per dirvi che sono rimasto veramente colpito da questo case. spazio a non finire. comodo avere in quel punto anche un'altra ventola da buttare all'aria all'interno. un case veramente fantastico. stock della high tech. un'altra componentistica magari più aggiornata per poter fare prossimi prossime configurazioni pc questa semplicemente era la mia configurazione quindi che è andata avanti nel tempo l'alimentatore di 3-4 anni fa se non proprio cinque anni fa quindi per questo si dice sempre piccola parentesi che l'alimentatore è il pezzo più importante della nostra configurazione. anche perché è un ottimo alimentatore e l'ho portato avanti per 5 anni e ho cambiato tutto il resto tranne alimentatore quindi ragazzi vi rinnovo ad iscrivervi a questo canale a mettere tantissimi piaci a scrivervi nei commenti cosa pensate di questa tipologia di video e se volete che ne faccia altri. spero veramente tanto che le aziende inizieranno a mandarmi un po' di prodotti per poter iniziare ad assemblare un po' di computer e di componentistica. noi ci vediamo con un prossimo video ciao a tutti ragazzi da Elytra Technology. grazie a tutti